Cosa vorrebbe Belen Rodriguez sotto l'albero per Natale? Stando a quanto raccontato sulle pagine del settimanale Chi, la bella Argentina sembra avere le idee chiare. Cosa desidero trovare sotto l'albero di Natale? Vorrei spegnere il gossip sulla mia vita. Vorrei non avere più intorno una marea di paparazzi ogni volta che sono con mio figlio e vorrei una legge che punisse chiunque usi violenza fisica, verbale e psicologica contro le donne. Una legge dura, veloce, ferrea. Un racconto speciale, alla presenza della famiglia riunita, con i fratelli Jeremias e Cecilia, il padre Gustavo e la mamma Veronica Cozzani, tutti in posa sul numero del settimanale Chi in edicola da mercoledì 20 dicembre. La famiglia Rodriguez racconta come trascorrerà le feste di Natale e, in particolare, Belen coglie l'occasione per sottolineare anche una piccola forma di malessere, che da un po' di tempo l'attanaglia. Soffro per gli attacchi che provengono da sconosciuti che non sanno nulla di noi. Parlo dei social, di chi ha il potere di usare la penna, di tutto. Questo mi fa un male cane. Ma la legge dov'è? Ho fatto mille denunce per il FIMOT in rete di quando ero menorenne ed è ancora lì. Che schifo! Discorso diverso per i due fratelli, che per Natale sognano di allargare la famiglia. Soprattutto Cecilia, che nella casa del GFVIP ha trovato il grande amore, Ignazio Moser. Io dico che sotto l'albero ho voglia di diventare mamma. E non scherzo. L'età è giusta. Ho trovato il mio uomo, quello giusto, va bene così. Non voglio diventare mamma da vecchia. Iremias non può che trovarsi d'accordo e si associa al desiderio di Cheeku, mettendoci del suo. Io sotto l'albero avrei solo un desiderio da chiedere. Vorrei diventare un buon padre. Di tutto il resto non mi importa. Non mi interessano la fama nei soldi. Cheeku, se diventi mamma prima, io sarò zio. Chi se ne frega.